Ecco le entrate in campo delle due formazioni, gara di recupero del campionato provinciale giovanissimi, oggi è mercoledì 20 dicembre, scenderanno in campo la Virtus Castelfrentano con la classica maglia, la seconda maglia bianca con risvolti giallorossi e il Casali in campo con la tenuta blu nera, l'arbitro è il signor Lapietra della sezione Aia di Lanciano, c'è la scelta del campo, ecco si salutano i ragazzi, i ragazzi si salutano al posto, vanno a salutare le panchine avversarie, ecco i nostri baldi giovanotti, se vi volete fare una foto, niente, dopo, a posto, ecco le panchine, a posto, in bocca al lupo, crepi il lupo a presto, ecco la chilometra, donno": Grazie a tutti.